Questo noi e lo agganciamo alle corde. Va bene sempre dare un po' di corda. E' un po' di attacchiamo. La nostra data corda, il nostro comandante, buongiorno, innesca la marcia e il nostro pallone deve scivolare sino alla nostra ancora, sotto ai mancoli, così che eliminiamo da ogni fatica e accorgiamo che l'ancora arriva su quando il nostro pallone lo vediamo scomparire sotto l'ancora. Ovviamente poi dovrà ricomparire con la nostra ancora. E' già arrivato. L'avete visto, il pallone prima è tornato giù, attirato sull'ancora e adesso è fuori dalla superficie dell'ancora, quindi la nostra ancora è stata disancorata ed è arrivata. In questo momento il nostro amico pescatore Tonino si accinge a recuperarla. E vedrete che viene verso la nostra barca in tutta tranquillità, perché il pallone tiene l'ancora sollevata e riusciamo a recuperare la nostra ancora senza nessun tipo di fatica. Come potete vedere Tonino tranquillamente sta tirando a sé la nostra ancora. Ok, ci siamo. In questo caso il pallone arriva. In questo caso l'ancora è parla qui. Eccolo. L'avete visto. Stacchiamo il mostricone. Il pallone a me. E la nostra ancora torna in barca.